Posso fare un'interruzione? Maiale? Allora è chiarissimo che questo qua sono tipo maiale secco. Mi ricorda Gimli quando arriva ad Isengard e gli dicono che c'è il maiale secca. Madonna l'odore è già importantissimo. La singola fetta è fatta tipo così? Secondo me è commestibile. No secondo me è un gioco. Perché ho preso le corsie finali tipo. Tanto qualcosa mi dice che devo assaggerlo io comunque, anche se è un gioco di plastica. Ah guarda cosa puoi fare anche. Dai è una caramellone. Ma secondo me è un gioco, non è una caramellone. Stai dicendo che non devo mangiarlo? No secondo me non è un gioco, traduciamo. Ma l'hai mangiato? E' palesemente la caramella ragazzi. Allora è una caramella tiposissima, cioè la lanciano con tremolo e questa è. Sì sì sì, il gioco è questo adesso. Ma sono un gioco, il profumato si mangia. C'è un gioco l'ha fatto male. Voto 4.